Ben ritrovati amici del centro meteo italiano. Nuvole sull'Italia e locali pioviggini, ma torna anche il sole. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per giovedì 18 febbraio. Cieli nuvolosi al mattino, soprattutto al nord, con deboli piogge possibili su Liguria e Alta Toscana. Sole prevalente al centro-sud. Al pomeriggio ancora molte nuvole al nord, con pioviggini su Liguria e Appennino Settentrionale. Ampi spazi di sereno al centro-sud. In serata e nottata pioviggini non escluse anche su Lombardia, Veneto e Friuli. Variabilità asciutta altrove. Temperature minime in generale aumento, massime in aumento al centro-sud e lieve flessione al nord-ovest. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.